Buonasera Dubai Village, il comune di Camposano, non dovete sbagliare, ma abbiamo una splendida di odinicio, di format importanti. Stasera siamo qui innanzitutto in una bellissima location di Dubai Village. Sono veramente contenta di presentare questo evento enogastronomico di arte culinaria perché vuole proprio valorizzare il territorio attraverso delle eccellenze, attraverso dei prodotti di qualità. E con noi c'è il grande chef Esepti Musa Grande in collaborazione con il pasticciere Balestra, quindi aspettiamo di degustare questi piatti. Ci sono tanti progetti, tanti eventi da presentare, restate connessi che ne vedete delle belle. Le cose le mandiamo naturalmente alle nostre amiche, i valedonne ragazzi, anche da Moncuso con noi possiamo annunciare, grazie.